Benvenuti a tutti su un mio nuovo video su FRAG Ragazzi, su FRAG, adesso ho iniziato a fare le cose su FRAG I video su FRAG Iscrivetevi, lasciate like Iscrivetevi certo al team Tommy DJ E poi condividete questo video Condividete questo video Ah, e accendete la campanella, certo Una cosa che non vi dovete dimenticare Ho trovato pure un posto di gioco nuovo oggi Di FRAG Scusa Allora, contro che lo usiamo? Controllai Ok Iniziamo a contro FRAG è un gioco veramente bellissimo Si inizia poco a poco Poi diventi tipo un esperto Un bellissimo Un bellissimo Inizioso 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 Grazie a tutti. 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 Bene. Ok?